rilke la cucitrice era il mese d'aprile dell'anno 1880 ero costretto a cambiare appartamento il padrone di casa aveva venduto l'edificio e il nuovo padrone aveva deciso di affittare il piano in cui si trovava la mia modesta cameretta ad un'unica persona ne cercai a lungo un altro ma in vano stanco di cercare presi finalmente una cameretta quasi senza vederla al terzo piano di un edificio il cui lato più lungo occupava una parte non piccola del minuscolo vicolo laterale la mia camera mi sembrò comoda fin dal primo giorno dalle due piccole finestre i cui vetri a reticolo lasciavano traspalire l'età della casa potevo vedere al di là dei tetti rossi e grigi al di là dei fumaioli pieni di fuliggine le montagne azzurre e potevo contemplare il sorcere del sole che si sporgeva come una palla infuocata ai lati delle colline evanescenti i mobili di mia proprietà che avevo fatto costruire appositamente rendevano il poco spazio ancora più abitabile di quanto avessi sperato all'inizio e il servizio di pulizia che aveva assunto la portiera non lasciava desiderare le scale non erano troppo lipide e si poteva salire senza fatica sì se le facevo sovrappensiero mi sentivo indotto ad arrampicarmi sino al tetto in breve ero contento e infine nel cortile scuro non giocavano bambini né suonavano pianole sono passati anni da allora il tempo di cui parlo si perde per me nelle nebbie del passato e i colori vivaci degli avvenimenti sono sbiaditi e confusi è come se parlassi di un evento che non ha coinvolto me ma un'altra persona forse un caro amico ma non per questo ho motivo di temere che il mio amor proprio mi induca a mentire scrivo in modo aperto chiaro e corrispondente al vero non stavo molto spesso a casa allora la mattina presto alle sette e mezzo andavo in ufficio pranzavo a mezzogiorno in una trattoria poco cara e finché era possibile trascorrevo il pomeriggio a casa della mia fidanzata sì ero fidanzato allora Edvige la chiamerò così era giovane, amabile, colta e ciò che contava di più agli occhi dei miei compagni ricca proveniva da un'antica famiglia di commercianti che attraverso risparmio e lavoro erano finalmente riusciti a condurre una casa era frequentata anche da giovani cavalieri da che vi regnava nel rispetto della buona educazione una gaiezza senza formalismi che non offriva agli ospiti noia insieme alle tazze da tè la più giovane delle figlie di questa famiglia Edvige era al centro dell'attenzione perché univa alla cultura una certa amabile leggerezza che rendeva interessante e stimolante la conversazione più banale possedeva più cuore e spirito delle altre due sorelle più grandi era schetta, allegra e... è insomma certo che l'amavo posso parlare apertamente più tardi, un anno dopo che il nostro fidanzamento era stato rotto sposò un giovane ufficiale di nobile famiglia ma morì dopo aver dato alla luce il primo figlio una bambina dai riccioli d'oro nella casa dei suoi genitori dove ogni giorno si poteva incontrare un bel gruppo di gente rimanevo normalmente fin verso le sei poi facevo la mia passeggiata andavo a teatro e di notte verso le dieci tornavo a casa per riprendere poi il giorno dopo lo stesso ritmo di vita la mattina presto quando scendevo lentamente le mie tre rampe di scale spesso incontravo nel pianerottolo del primo piano il portiere che puliva le bianche mattonelle mi salutava e cominciava un discorso ogni giorno lo stesso prima parlava del tempo e poi mi chiedeva se ero contento del mio appartamento e cose del genere il vecchio non la smetteva mai gli chiedevo sempre dei suoi figli anche sospirava e a denti stretti si bilava è una croce mi danno solo preoccupazioni signor mio e così finiva il colloquio una volta era di martedì chiesi tanto per dire qualcosa chi abitasse vicino a me il tono della risposta corrispondeva a quello in cui era stata posta la domanda così incidentale una cucitrice una poverazza uno schifo borbottò senza alzare gli occhi dal pavimento e fu tutto avevo da molto tempo dimenticato questa informazione quando la incontrai nel buio corridoio del palazzo da cucitrice come immaginai allora giustamente era domenica mattina avevo dormito più a lungo del solito e stavo proprio uscendo mentre lei con un libro bianco in mano probabilmente stava tornando dalla chiesa una figura misera tra le spalle appuntite coperte da un cappotto verde tutto consumato che arrivava quasi fino a terra spuntava la testa su cui si notava dapprima il naso lungo e sottile e poi le guance incavate le labbra sottili lievemente socchiuse mostravano denti sporchi il mento era spinto e sporgente in quel volto soltanto gli occhi sembravano dire qualcosa non che fossero belli ma erano grossi e neri anche se privi di splendore così neri che i capelli profondamente scuri sembravano quasi grigi so soltanto che quest'essere mi fece un'impressione tutt'altro che gradevole credo che non mi avesse nemmeno guardato non ebbi tempo di riflettere ulteriormente su quell'incontro insignificante perché proprio sul portone perché proprio sul portone incontrai un amico con cui trascorsi l'intero pomeriggio poi dimenticai del tutto di avere una vicina giacché nonostante fossimo porta a porta lì accanto c'era silenzio notte e giorno sarebbe andata avanti così se una notte per caso altrimenti non saprei come definirlo non fosse accaduto l'inatteso l'impensabile in casa della mia fidanzata negli ultimi giorni del mese d'aprile ci fu una festa che a lungo promessa e preparata riuscì molto bene e durò fino a tarda notte proprio quella sera trovai Edvige incantevole chiacchierai a lungo con lei nel piccolo salotto verde ascoltai pieno di gioia come un po' ironica e un po' infantile disegnava con intima ingenuità il quadro della nostra futura condizione familiare come dipingeva coi colori più accesi tutte le piccole gioie e i piccoli dolori e come si rallegrava della nostra felicità simile a un bambino di fronte all'albero di Natale una piacevole sensazione di felicità attraversò il mio cuore come un calore piacevole e anche Edvige allora ammise di non avermi mai visto così contento lo stesso umore del resto regnava su tutta la compagnia i tost arrivavano a ondate e si arrivò al punto che alle tre del mattino ancora non ci si voleva separare di sotto le carrozze arrivavano una dietro l'altra i pochi pedoni si dispersero ben presto in tutte le direzioni io dovevo camminare per più di mezz'ora e così mi affrettai verso casa tanto più che la notte di aprile era fredda e nebbiosa ero tutto preso dai miei pensieri e non mi sembrò che fosse passato tanto tempo quando fui davanti al portone di casa lentamente aprì il portone e poi lo richiusi prudentemente dietro di me accesi un fiammifero che avrebbe dovuto illuminare l'androne fino alle scale ma era l'ultimo che avessi si spense subito salì barcollando le scale pensando ancora ai bei momenti della sera appena passata e fui sopra misi la chiave nella toppa girai l'apri lentamente lei stava lì davanti a me una candela fioca quasi del tutto consumata illuminava la misera stanza da cui proveniva un effluvio di sudore e di grasso stava in piedi accanto al letto con una camicia da notte sporca e aperta e una sottoveste scura non sembrò per niente sorpresa solo mi guardava fisso con gli occhi sbarrati evidentemente ero entrato nella sua camera ma ero così preso così profondamente avvinto che non dissi nemmeno una parola di scusa ma nemmeno me ne andai lo so che ero disgustato ma rimasi vidi che si avvicinò al tavolo colse via un piatto con i resti sparsi di una cena improbabile spostò dalla poltrona il vestito che indossò e mi invitò a sedermi con voce flebile disse prego si accomodi anche il suono della sua voce mi sembrava sgradevole ma come seguendo una forza sconosciuta obbedì parlò non so di che nel frattempo si sedette ai bordi del letto al buio vedevo solamente il pallido ovale del viso e a momenti quando la consunta candela guizzava per un attimo i grandi occhi quindi mi alzai volevo andarmene la maniglia alla porta fece resistenza lei venne ad aiutarmi lì proprio vicino a me scivolò ed io dovetti abbracciarla si strinse al mio petto ed io sentì da vicino il suo respiro ardente era sgradevole volevo liberarmi solo i suoi occhi erano così fissi nei miei come se quello sguardo tessesse una rete invisibile intorno a me mi strinse sempre di più a sé sempre di più mi baciò a lungo e con ardore sulle labbra in quel momento la candela si spense la mattina dopo mi svegliai col mal di testa dolori alla schiena e la bocca amara accanto a me nel letto con la testa sul cuscino dormiva lei il viso pallido ed emaciato il collo magro quel petto piatto messo a nudo mi fece orrore mi alzai lentamente quell'aria stantia mi opprimeva mi guardai intorno il tavolo sporco la logora poltrona dalle gambe sottili i fiori appassiti sul davanzale della finestra tutto dava un'impressione di deperimento e miseria in quel momento si svegliò quasi addormentata appoggiò una mano sulla mia spalla osservai questa mano le lunghe dita ossute con le unghie larghe corte e sporche i polpastrelli scuri e pieni di buchi mi prese orrore di tutto ciò saltai su spalancai la porta e corsi in camera mia lì mi calmai ancora mi ricordo che chiusi a chiave con tutte le mandate i giorni seguenti trascorsero nello stesso modo di prima una volta forse una settimana più tardi quando mi ero già calmato sbattei per caso col gomito contro la parete mi accorsi che questo colpo involontario ricevette subito una risposta rimasi fermo poi mi addormentai nel dormiveglia mi sembrò che la mia porta veniva improvvisamente aperta un istante dopo sentì un corpo che si stringeva a me era lei passò la notte tra le mie braccia ripetutamente tentai di mandarla via ma lei mi guardava con i suoi grandi occhi e le parole mi morivano sulle labbra oh era terribile sentire accanto a me le calde membra di questo essere di questa ragazza brutta precocemente invecchiata ma non trovai la forza talvolta l'incontravo sulle scale mi passava accanto come la prima volta non ci conoscevamo venne da me molto spesso e ovviamente senza dire una parola entrava e mi teneva vinto col suo sguardo ero senza volontà finalmente decisi di dare un taglio alla cosa mi sembrava un delitto nei confronti della mia fidanzata dividere il letto con quella donna che si stringeva a me con tanta invadenza e che per di più non possedeva il diritto all'amore tornai a casa prima del solito e sprangai subito la mia porta quando furono le nove arrivò lei poiché trovò la porta chiusa se ne andò via poteva pensare che non fossi a casa ma fu imprudente spinsi indietro la pesante sedia della scrivania un po' troppo bruscamente deve averlo notato un istante dopo bussarono non diede risposta bussarono ancora una volta quindi impazientemente senza pausa allora udì il suo singhiozzare a lungo a lungo deve aver trascorso metà della nottata davanti alla mia porta ma resistetti sentivo che questa tenacia avrebbe rotto l'incantesimo il giorno dopo li incontrai sulle scale e amminava molto lentamente quando le fui accanto spalancò gli occhi trasalii in quegli occhi c'era un tremolio e una minaccia sgradevoli risi di me stesso ero stato un vero pazzo questa donna la segui con lo sguardo e notai che poggiava i piedi sui gradini e saliva con una certa difficoltà quel pomeriggio il capo ebbe bisogno di me cosicché dovetti rinunciare alla mia solita visita a Dedvige la sera quando tornai a casa trovai una lettera del padre della mia fidanzata che mi lasciò esterrefatto diceva date le circostanze voi capirete che con mio grande rammarico mi vedo costretto a ritenere rotto il vostro fidanzamento con mia figlia credevo di avere affidato Dedvige ad un uomo che non fosse già impegnato è preciso compito di un padre risparmiare finché è possibile a sua figlia simili esperienze comprenderete egreso signor Fonby il mio comportamento e rimango convinto che mi avreste informato per tempo dello stato delle cose per il resto sempre vostro difficile descrivere come mi sentivo amavo Dedvige era abituato a vivere in quel futuro che lei aveva progettato con tanto fascino non potevo pensare di vivere senza di lei so solo che fui dapprima sopraffatto da un grande dolore che mi fece venire le lacrime agli occhi prima che trovassi il tempo di riflettere chi avrai dovuto ringraziare per quella straordinaria ricusazione giacché era straordinaria in tutti i sensi conoscevo il padre di Dedvige che era la giustizia e la coscienziosità fatta persona ed ero certo che soltanto una grave circostanza aveva potuto spingerlo a un tale comportamento infatti mi stimava ed era troppo avveduto per farmi un torto quella notte non riuscì a prendere sonno mille pensieri mi attraversavano la mente finalmente la mattina mi assopì dalla stanchezza al risveglio mi accorse che avevo dimenticato di chiudere la porta a chiave ma lei non era venuta da me trassi un respiro di sollievo mi vestì in fretta presi un permesso di un paio d'ore in ufficio e mi affrettai verso l'appartamento della mia fidanzata trovai la porta chiusa e quando al mio ripetuto bussare nessuno rispose pensai che fossero partiti il portiere stava forse sbrigando delle faccende in cortile dove non poteva sentire il campanello decisi di tornare nel pomeriggio alla solita ora e lo feci il portiere aprì fece uno sguardo stupito e disse che avrei dovuto sapere che i signori erano partiti trassalì ma feci come se sapessi già tutto e chiese di parlare con Franz il vecchio cameriere mi raccontò con dovizio di particolari che tutti tutti erano partiti dopo che la mattina prima c'era stata una scenata mai vista io stavo così raccontò qui nell'ingresso e pulivo le posate quando entrò una cameriera misera e malmessa e mi chiese di condurla dalla signorina Edvige naturalmente non le detti retta bisogna conoscere la gente a noi con fervore mi balenò un pensiero e allora per farla breve continuò il vecchio chiacchierone quella al mio rifiuto cominciò a fare urla e strepiti finché accorse il signor padrone lei pregò e giurò che portava notizie importanti la condusse nel suo studio ci rimase un'ora un'ora signor mio illustrissimo poi uscì baciò la mano al signor padrone com'era questa ragazza lo interruppi pallida magra brutta alta molto alta occhi neri e anche i capelli il vecchio continuò a chiacchierare io sapevo abbastanza tutte le parole della terribile lettera mi furono chiare impegnato sentii nascere in me un sordo rancore piantai in asso il servo e mi precipitai fuori camminai per le strade fino a casa davanti al portone c'era un po' di gente uomini e donne parlavano sottovoce e rapidamente mi feci largo senza complimenti poi tra rampe di scale senza fiatone dovevo andare da lei dovevo dirle non sapevo bene cosa dirle ma sentivo che al momento giusto mi sarebbero venute le parole adatte anche sulle scale c'era gente non ci feci caso spalancai la porta fu investito da un odore acuto di acido fenico un'imprecazione si spense nelle mie labbra lei giaceva sulle grigie lenzuola del letto con la sola camicia da notte la testa rovesciata all'indietro gli occhi chiusi le braccia pendevano flaccide mi avvicinai non osai toccarla con le labbra aperte e con le palpebre rovesciate faceva proprio l'impressione di un'ubriaca ero terrorizzato ero solo nella stanza il sole freddo splendente illuminò il tavolo sporco il bordo del letto mi chinai sulla donna sì era morta il viso aveva un colore violaceo esalava cattivo odore fui preso da un disgusto da un ribrezzo